Il passato è come un sogno. Il soggetto è armato e pericoloso. Immagini e sentimenti che ci svelano la verità su come siamo arrivati qui. Anche se i dettagli si confondono col tempo. La scorsa notte ho fatto un sogno su quella zitta con la mamma nel bosco. Mi manca, mi manca la nostra famiglia. Doveva iniziare con un nuovo farmaco. La società che produce il farmaco generico l'ha ritirato dal mercato. Pagare la concorrenza per farle accantonare le marche generiche dei farmaci è una cosa immorale. Il prossimo telespettatore chiama da Pittsburgh. Se mia moglie muore, sarà la tua condanna a morte. Posso aiutarla a ottenere giustizia per sua moglie. Chi è? Famiglia del posto devastata dall'avidità delle aziende farmaceutiche. Possiamo far esplodere questa notizia. Papà! Non puoi nasconderti. Sappiamo chi sei. Adesso verranno a cercarci, non è vero? Dobbiamo andare. Papà, cosa pensi di fare adesso? Non sai in che casino ti stai cacciando. Devo dare un senso a questa storia. So che stai lottando per noi. Ma questa è anche la mia lotta. Lo sapevi che attaccare persone di potere sarebbe stato pericoloso? Finché restiamo insieme, siamo ancora una famiglia. No. Grazie a tutti. Brobo. So che stai lottando per l'altro. Ciao.